Una sola, lo tira Tanto per se cazzo viene Ma in realtà non si prova niente così Alfa Romeo siamo caldi L'unico problema dell'aliante è trainatore Si dice quando è pronto Siamo a posto Un po' foggerina, questo non sarà più bene Metti in modo, non più giù Perfetto Ops, sono fatti di nocce Alla lettera Alla fune 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 Vedi che ancora si è preso 5 metri Ancora si è preso 5 metri solo Adesso tu solo abbassa la velocità Perchè sarà l'unico nostro guadagno Indie Alfa 52 in corto 09 Lascia che abbiamo visto giusto Positivo 429 in corto Non scontrollato questo plan Piano piano muso a sinistra Tanto per pochi gradi Forse ci manca la Forse ci manca la Allora ancora questa colina Sì Lì si torna Ok Potremmo magari di fare virata in un colpo come era quello prima Se si salva la virata allora perdiamo pochissimo Quindi arrivo fino a quella strada e basta Come? Arrivo fino a quella strada Vado avanti ancora a 500 metri Sì Quella colina che c'è ancora Abbiamo ancora 600 metri Non siamo in Pericolo No Per il momento No Considera che abbiamo il vento sera est Che ci aiuta Un po' Per andare indietro Adesso andiamo contro vento No No Questa mi interessa ancora Ma Perlomeno via Andrei via Sì andiamo via Sì andiamo via Perché è ancora peggio Non so che conviene aumentare la Sto aumentando Lasciare il prima possibile questo Questo porto di merda Sì andiamo via Sì andiamo via Sì andiamo via Allora Cerchi di toccare Più o meno Dove incrociano le due fisse Ok Ma ancora più avanti Ok Cominciamo a chiudere i dirottori E allungare 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 Il finale Per Fisto 09 Non serve più Tanto È una procedura Che tu non puoi più spostarlo Ok Sei lontano o vicino? Cosa dici Sono lontano Va bene Basta che lo sai Sì sì sono lontano Allora Si tocca molto più avanti di lì No? Quello sarebbe solo un posto di Di dire quello è inizio pista No? Certo Così Non ho toccato eh Non ho toccato eh Come hai ancora un'idea Di quanto vento c'è no? È quanto Anche se chiudi adesso direttore Avremo difficoltà di arrivare in foglio e poi andare giù con il direttore fisico trova una posizione trovati l'angolo e cerca di tenerla adesso è troppo ancora dentro io credo che con questo si viene lì dove vogliamo ancora meno chiudi completamente non frenare adesso freno non andare verso l'aereo se si spacca il cavo si ce ne sono ancora di riserve da fare però